Sarai l'unico a non vedere questo numero, il pubblico lo vedrà, io cercherò di trasmetterlo con la forza del pensiero. Quindi sei l'unico a non vedere questo numero. Lo state vedendo? Chi vorrebbe suggerirlo? No, ci penso io a trasmetterlo col pensiero. Claudio, state tranquillo, ci penso io. Potete indovinare? Numero di quattro cifre, quindi migliaia, ti aiuto. Ti aiuterò io ad indovinarlo. Cinquemila? Settecento? Trenta? Buio, buio. Ho tenuto il peggio, ho tenuto il peggio. Quanti sono commossi con questa cosa? Perfetto, allora, adesso, mentalismo, trasformismo. Vanessa, dimmi delle canzoni del repertorio italiano che io trasformerò in osole mio. Può partire la suspense, canzoni del repertorio italiano che io trasformerò in osole mio, non è facile, giuro. Allora, questo piccolo grande amore? O sole mio. Nel blu dipinto di blu? O sole mio. Sapore di mare? Buio. Perfetto. Allora, molti mi dicono, Massimo, è facile tifare i cantanti con tre sillabe, però proviamo a tifare Tiziano Ferro. Tiziano, Tiziano, Tiziano. Renato Zero. Renato, Renato. Il difficile è tifare i cantanti con una sillaba sola. Proviamoci, eh? Raff, raff, mecca, mecca.